80 interventi in corso e molti altri da programmare in tempi brevissimi per mettere definitivamente in sicurezza il territorio di Livorno disastrato dall'alluvione del 10 settembre. Lo ha detto il presidente della regione toscana e commissario delegato Enrico Rossi durante il nuovo sopralluogo sui cantieri aperti a Livorno con le salvetti Rosignano Marittimo. Con Rossi anche le assessore regionali Federica Fratoni e Cristina Grieco. I lavori, ha detto il presidente, saranno eseguiti con la massima urgenza o per via ordinaria a seconda delle necessità. Obiettivo appaltare tutti i lavori entro il prossimo anno. Entro la prossima settimana, non questa quella dopo, noi avremo pronto il piano complessivo di tutti gli interventi che vogliamo fare. Forse ci vorrà qualche altro finanziamento in più, però vogliamo fare un lavoro che duri. Il mio commissariamento starà in piedi per un anno, io vorrei almeno avere iniziato tutti i lavori nel corso del commissariamento. Il sopralluogo è iniziato dal torrente Morra in località Crocino per toccare poi la strada provinciale per il Gabbro in località Ferriere dove la strada è franata, la foce del rio Banditella dove l'alveo del torrente è stato allargato, piazza delle carrozze a Montenero, il botro della Gorgia, ferite ancora aperte che rendono ancora più urgente una veloce ricognizione dei danni. Continuo, insisto, riportateci la scheda B e la scheda C entro domenica massimo lunedì prossimo perché dobbiamo mandare a Roma la somma di tutti i danni ricevuti dalle imprese e dalle famiglie. Fatto questo lavoro la settimana che verrà faremo il bando per le famiglie che sono state danneggiate, quegli 8 milioni che abbiamo messo come regione toscana, primo ristoro a cui eventualmente potranno aggiungersi ristori del livello nazionale. Ora si aspetta di togliere le tombature per restituire ai fossi i loro corsi d'acqua mentre nelle prossime settimane, a garantito Rossi, saranno effettuati altri sopralluoghi per monitorare l'avanzamento dei lavori e intervenire sui fronti di crisi.